Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luigi e bentornati in questo nuovo vlog. Allora, l'idea di creare questo canale è stata fatta da Taglia Di Carluccio, mia cognata. Io vivo di nazionalità italiana, napoletano e abito a Miano. Se vedete l'assenza... non so, il colore avesso a casa di mia cugina. Allora, quest'anno dovevo fare il primo superiore e penso che non ce la farò perché a scuola non vado tanto bene. Va bene, non so. Allora, oggi è uscito un video su un videogioco. Se vi piace andate a mettere mi piace, iscrivetevi e se volete faccio anche altri video di videogiochi. Scrivete nei commenti se vi piace Crash of Clans. Bella!